Come abbiamo una strategia congiunta con i paesi di quelli che noi chiamiamo neighborhood, il vicinato, e quindi lavoriamo essenzialmente su alcuni elementi che sono veramente fondamentali della transizione. Cerchiamo di sviluppare tutto quello che è renewable energy, perché c'è un grandissimo potenziale qua, c'è molto sole, c'è molto vento, c'è molto spazio, quindi c'è la possibilità, però effettivamente non siamo ancora veramente lì a livello di quello che sono le politiche, i regolamenti, quindi c'è tutto questo lavoro da fare. Quando parlo di assistenza è molte volte assistenza tecnica, formazioni e delle volte sono dei finanziamenti che possono essere sotto forma di grants o insieme lavoriamo con degli organismi finanziari che danno dei loans, quindi insomma insieme il blending, però moltissima formazione effettivamente e lavoriamo non soltanto da Bruxelles ma anche nelle nostre delegazioni, quindi in ciascuno di questi paesi c'è una delegazione dell'Unione Europea nel quale hanno un programma bilaterale con il paese e l'energia è veramente al centro, al cuore della nostra cooperazione.